Ryanair, il principale vettore low cost per ripartire dopo la quarantena, sta sviluppando alcune strategie di promozione che riguardano anche e coinvolgono il nostro territorio. E per invitare tutti i turisti a scegliere i propri voli ha usufruito della bellezza della costa salentina per promuovere le proprie offerte. Il pacchetto include 12 spiagge italiane definite segrete. Tra queste c'è ovviamente il Salento con Porto Selvaggio, Annardò e Porto Cesario. Che viene battezzata come le Maldive d'Italia. Un consiglio da parte del vettore irlandese che potrebbe permettere a più di qualcuno di optare per le nostre coste invitando i turisti a perdersi nel profumo di rosmarino o del mirto selvaggio che si può trovare nei percorsi di trekking della splendida Porto Selvaggio o nelle baie del punto più a nord ovest della costa salentina. L'azienda del turismo sta per ripartire e la speranza è che chi deciderà di riaprire le proprie valigie dentro ci metta un biglietto per il Salento e per le sue splendide coste e per i suoi incantevoli borghi. Grazie. 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 Grazie.